Mimmo Nobile, il presunto killer, e Maurizio Longo, l'uomo che la procura considera il suo fiancheggiatore, seduti l'uno accanto all'altro in videocollegamento dal carcere di San Donato. Assente invece il calabrese Natale Ursino, che a giudizio dell'accusa è il mandante. Si è aperto così, questa mattina a Chieti, il processo sull'agguato al bar del Parco di Pescara, avvenuto il 1 agosto del 2022, quando un uomo, entrato in azione in pieno giorno, sparò sei colpi di pistola uccidendo l'architetto pescarese Walter Albi e ferendo gravemente l'ex calciatore Luca Cavallito. Quest'ultimo si salvò fingendosi morto e le sue successive rivelazioni ne fanno il testimone chiave dell'accusa. In mattinata, davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Guido Campli, si è proceduto all'ammissione delle prove. L'accusa, rappresentata dal procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e dal sostituto Andrea Di Giovanni, ha fornito la propria produzione documentale e il lungo elenco dei suoi testimoni, annunciando di essere intenzionata a procedere sia all'esame di Cavallito che a quello dei tre imputati. Una sessantina i testimoni citati dall'accusa, una trentina invece i nominativi che compaiono negli elenchi delle difese. In aula, il PM di Giovanni ha inoltre chiesto di integrare i capi di imputazione, ovvero omicidio volontario premeditato e tentato omicidio, con quello di ricettazione in relazione al furto e, secondo la procura, al successivo utilizzo nell'agguato di uno scooter, di un casco e di parti della pistola impugnata dal killer. Tutti i reperti rinvenuti tra le sterpaglie di via del Pantano a Pescara. La difesa di Nobile, rappresentata dagli avvocati Massimo Galasso e Luigi Peluso, ha chiesto i termini a difesa per poter esaminare la documentazione e il giudice ha concesso due mesi di tempo fino al 30 maggio, fissando per quello stesso giorno, la data della prossima udienza. Siamo pronti a fare un processo impegnativo, ma che certamente seguirà il ricano di ogni processo. Naturalmente voi continuerete a sostenere l'innocenza del vostro assistito? Assolutamente sì, siamo convinti di riuscirlo a provare qui in corte di assise, Cosimo Nobile, Mimmo Nobile non è responsabile di quello che gli contestano, quindi faremo il processo in questo senso. Voi in aula avete chiesto come condizione fondamentale quella di poter avere in aula il vostro assistito, perché? Sì, allora il tema è questo, crediamo che l'imputato abbia diritto ad essere presente in aula accanto ai suoi difensori per poter capire e comprendere quel che effettivamente accade. Vederlo sopra un monitor vi assicuro che non è la stessa cosa. Il punto fermo dell'accusa per il momento resta l'identità del killer, riconosciuto dal sopravvissuto Cavallito che fin dal primo momento si è detto certo al 100% che sia stato nobile a sparare. Sulla posizione del presunto mandante, Ursino, figura scrivibile agli ambienti dell'andrangheta calabrese, pesa il fatto che nel pomeriggio dell'agguato Albi e Cavallito erano seduti al bar del parco in attesa proprio di Ursino e di un ipotetico quarto uomo che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe dovuto portare degli orologi preziosi da piazzare. In quei frangenti Ursino, che in realtà si trovava a Roma, scrisse diversi messaggi a Cavallito per rassicurarlo sul fatto che stesse arrivando, mentre l'unica persona che arrivò fu il killer. Questo a riguardo il parere dell'avvocato Cesare Placanica, difensore di Ursino. Questa è l'ipotesi accusatoria che è fondata su alcuni elementi, non è che i pubblici ministeri inventano, ci sono degli elementi, però questi elementi sono stati vagliati per esempio dal Tribunale della Libertà e sono stati ritenuti inconsistenti, quindi adesso vedremo cosa deciderà la Corte d'Assise. Quali sono, dal suo punto di vista, i punti deboli dell'impostazione accusatoria? Diciamo io potrei fare un giudizio per relazione, ma basta leggere insomma il riesame, quali ha individuato come elementi per dire che gli elementi probatori che, ripeto, ci sono, però non hanno una consistenza, non hanno la capacità di reggere le ipotesi alternative.